Complimenti perché giro per molte scuole e credetemi quando ci sono 200 bambini a fare delle domande si fa molta fatica ad ascoltare. Voi diciamo che a un 90% siete stati molto bravi. Io vorrei fare 95, un po' di busio c'è sempre, il 100% non esiste mai. Ora io vorrei lasciarvi, visto che qualcuno voleva parlare più che fare le domande, dei lavori che ci avete consegnato, visto che ci sono state fatte anche delle belle poesie, io qui ce n'ho qualcuna, c'è per Alzate Mano che ha fatto una poesia su questo argomento. E allora, magari chi è che non ha neanche mai parlato, fino adesso, di quelli che hanno alzato la mano, non ha preso nel micro, alzatevi i piedi, chi non ha mai parlato. Allora, facciamo così. Allora, 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 bimbi.